La manifestazione collaudatissima della Virtus Collecchio che ogni anno organizza qui in questa ridente località della provincia di Parma, due manifestazioni di assoluto prestigio. In settembre si correrà infatti la Coppa Collecchio che ha superato le 80 edizioni. Intanto è arrivato anche il fraterno amico del Cavaliere Cavazzini, il grande vittorio Adorni, campione del mondo nel 1968 a Dimula, vicitore di un Giro d'Italia e di tantissime altre grandi classiche, una vera e propria icona dello sport italiano. Siamo sul gruppo che sta perdendo, il vantaggio degli uomini al comando si è dilatato e già due minuti per quanto riguarda gli atleti che stanno comandando la gara è stato trovato l'accordo, ha dovuto spendere un po' di parole Diego Rosa della Palazzago che è stato subito il più attivo. Mentre vedete da queste immagini, ombrelli aperti, spira anche un leggero vento però come abbiamo sottolineato la temperatura non è freddissima. Meno 5 al passaggio in questo momento per gli atleti del comando, adesso possiamo dare la composizione definitiva. Davanti ci sono Gernot Auer della VSA, formazione austriaca, quindi Diego Rosa della Palazzago che è stato uno dei propiziatori di questo importante tentativo. Tanto siamo ancora con la fissa dal traguardo mentre sono già sopraggiunti da oltre due minuti gli attaccanti. Continuiamo con gli atleti che si trovano al comando. Giorgio Bocchiola, Stanislao Bazzcu, Nicola Gaffurini, Daniele Dalloste, Mattia Pozzo, Luca Donella, Ilia Gorodnicev, Vicini e quindi Mirko Tedeschi. Gruppo che per il momento non va a dare una vera e propria caccia e battistrada. Tra poco torneremo con le immagini sulla testa della corsa. Ancora un giro con i boschi di Carrega che si faranno anche nel secondo anello di 15 chilometri che sarà da ripetere quattro volte per un totale di 60-149 lo sviluppo complessivo della gara. Ma il secondo anello ci porterà poi verso Taglignano, Segalara. Prevista la salita, 225 metri sul livello del mare, tetto della competizione. Intanto Forconi passa il rifornimento ai suoi atleti che sono due in questa fuga. Gorodnicev e Puccio. Risaliamo, andiamo davanti. Eccoci su Mattia Pozzo, atleta della Viris. Vigevano, formazione Lombarda, il vincitore della passata edizione. Quindi in grande condizione anche quest'oggi. Eccoci sul propiziatore della fuga, vale a dire Diego Rosa. Poi con il numero 200, il portacolori della Trevigiani. Si tratta di Alexandru Catavei. Quindi Mirko Tedeschi, compagno di allenamenti di Andrea Guardini. Tedeschi che farà tra poco il grande salto nei professionisti. ha voluto passare la prima parte della stagione con la Petroli. Firenze si è trovato molto bene in questa formazione. Quindi non ha fatto subito il grande salto. Non è più un under 23, Mirko Tedeschi. Ma ormai per lui, ultime gare nel mondo dilettantistico. Prima di passare Fraiproff. Intanto lo speaker Alessandro Brambilla ci annuncia l'imminente passaggio dei corridori. meno 4, 60 km quindi alla conclusione. E adesso si farà il secondo circuito che prevede appunto la salita di Segalara. Una scesa non durissima ma che si farà sentire col passare dei chilometri. Soprattutto perché oggi davvero, sin dai primi chilometri, i corridori hanno fatto un ritmo velocissimo, una gara spettacolare. Subito dopo che il Cavalier Cavazzini ha abbassato la bandierina, c'è stato un tentativo di fuga, il gruppo addirittura si è rotto in tre tronconi. Poi è nato il tentativo dei 15 attaccanti. E adesso la corsa è in mano a questi corridori che hanno trovato un accordo importante. Pozzo, Berlato, Orsi della Gragnano, Gorodnicev, Gernotauer in ultima posizione, Krizek insieme all'atleta della Colpac. Chiude in questo momento Diego Rosa che si è dato un grande affare. È stato lui a propizzare la fuga e soprattutto è stato lui che a un certo punto si è fatto sfilare e è andato in fondo alla drappello per spronare quei corridori che erano rientrati da poco e quindi avevano speso energie importanti. Diego Rosa è andato da questi atleti a cercare maggiore collaborazione. che è stata trovata perché adesso il vantaggio è superiore ai due primi e 30 secondi. I corridori della Tecmoor, Gavardo nelle prime posizioni, poi a centro gruppo abbiamo visto il campione albanese Zupa e tutto il gruppo che sfila in questo momento. Gruppo ancora molto numeroso. Chiudono nelle ultime posizioni Maestrelli e Gozzi della Bedogni-Mossumanese Sergio Natalini e vedete continua a piovere. Non c'è stato un attimo di tregua per i ragazzi che comunque hanno offerto davvero un grandissimo spettacolo li abbiamo attesi ancora una volta nei boschi di Carrega e sempre lui davvero molto bravo. Olivano Locatelli sta chiedendo ai suoi anche quest'oggi una grande prestazione e gli atleti della Palazzago stanno rispondendo sempre piazzati, sempre bene, sempre nelle prime posizioni ma poche vittorie fino a questo momento per lo squadrone Lombardo. Mattia Pozzo in seconda posizione si sta dando un grande affare anche lui per un bis che potrebbe diventare storico. Albo d'oro iniziato nel 1997 con la vittoria di Federico Giabbecucci della Valdano Alessandria Filati di formazione toscana quindi nel 98 successo di Colleoni mentre vedete adesso non si torna verso il traguardo ma si va a fare per la prima volta la salita di Segalara. Cortinovis nel 1999 continuiamo con l'albo d'oro nel 2000 Cristiano Parrinello mentre adesso sono in tre, si sono sganciati in tre dal drappello di testa sono andati via tre corridori riconosciamo la sagoma del possente atleta della Viris voglia dire Mattia Pozzo poi Diego Rosa e quindi Gernot Tower corridore austriaco hanno un leggero vantaggio hanno preso un leggero vantaggio con Pozzo che danza sui pedali e scandisce l'andatura continuiamo con l'albo d'oro nel 2000 Cristiano Parrinello nel 2001 Michele Maccanti nel 2002 successo per Roman Luovi nel 2003 Mirko Lorenzetto e quindi in sequenza Fabrice Piemontesi Vasil Chirenka nel 2005 nel 2006 Maurizio Biondo l'anno dopo Paolo Tomaselli quindi 2008 Benedetti 2009 Thomas Alberio 2010 Massimo Graziato e come abbiamo segnalato più volte nel 2011 successo per Mattia Pozzo che continua a fare andatura in seconda posizione Gernot Tower poi però stanno rientrando anche gli altri con Gorodnicev quindi abbiamo visto anche Berlato arriva Krizek un po' in difficoltà Orsi con l'atleta della Kolpak e anche Tedeschi per il momento non ce l'ha fatta a tenere il ritmo adesso però c'è strada favorevole come abbiamo segnalato in mattinata c'è stata una perlustrazione del percorso e come avete visto le strade sono in perfette condizioni è chiaro il terreno è vicido per la pioggia che cade copiosa dalle prime ore del mattino il gruppo per il momento sembra non in grado di recuperare gruppo che adesso ha perso diversi concorrenti ci sono stati alcuni abbandoni alcuni ritiri di atleti che molto probabilmente hanno svolto il loro lavoro per la squadra e adesso sono gli atleti del team idea a fare l'andatura nelle prime posizioni con il numero 7 Matteo Busato uno dei leader di questa formazione ricordiamo un passato per lui anche alla Zalf un ottimo passista atleta che sa esprimersi molto bene anche a cronometro ruota veloce della gruppo e siamo a 200 metri dal passaggio dal primo passaggio sulla salita di Segalara per il gruppo che insegue a due primi e venti secondi ha recuperato qualcosa il plotone con Busato che continua a fare un'azione davvero molto importante dietro a un compagno di colori di Mattia Pozzo della Vinis che è lì a spezzare i cambi e quindi a favorire il tentativo del compagno di squadra che addirittura a traguardo ancora lontano ha cercato di evadere con altri due corridori un'azione a nostro modo di vedere un po' azzardata perché ci sarà bisogno di collaborazione visto che questi atleti sono allo scoperto da tantissimi chilometri immagini dal traguardo il pubblico non manca tranquillo e sereno il Cavalier Cavazzini si sta godendo questa ennesima grande edizione del trofeo ed il C come abbiamo detto gara internazionale che fa parte del Lucy High Europe Tour si è staccato Andrea Orsi atleta della Sporting Club Gragnano formazione Lucchese il gruppo ancora vedete non accenna una vera e propria reazione scorgiamo nelle prime posizioni Bohem della Zalf quindi abbiamo visto Alessandro Mazzi poi Fiumana nelle ultime posizioni i ragazzi di Trinci della Bedogni Monsummanese Sergio Natalini gruppo che dobbiamo dire però ancora molto numeroso nonostante il ritmo vibrante fin dalle prime battute siamo di nuovo in salita al GPM stiamo attendendo i corridori è cambiata la situazione